Ben trovati alla seconda edizione del TG6, volata finale in consiglio regionale per l'approvazione del bilancio. Dopo i fatti di ieri, il consigliere del PD Camillo D'Alessandro denuncia in aula di aver ricevuto minacce e offese a seguito della pubblicazione di un video da parte dei grillini. Fidarsi è bene ma non fidarsi è meglio. Stavolta, prima dell'inizio della seduta del consiglio regionale, il presidente Giovanni Di Pancrazio ha piazzato due vigilantes a presidio dei banchi del governo, in attesa della seduta che dovrà approvare la legge di stabilità e il bilancio di previsione. Per evitare un'eventuale nuova occupazione dei banchi dell'Aggiunta, come quella scenata ieri dai consiglieri pentastellati, che ha provocato la stizzita reazione del governatore che ha strattonato la consigliera Sara Marcozzi per sfilargli la sedia. Un pericolo oggi insussistente, visto che l'M5S diserterà i lavori. Il centrodestra ieri invece ha depositato un plico da 1700 emendamenti, ma come accaduto ieri per il documento di programmazione economica e finanziaria, approvato in serata, scatterà la legge tagliola che li ridurrà a 5 per ciascun consigliere. Le divergenze restano, ma il clima è quello della ricerca di un accordo. Sono numeri di responsabilità perché per la prima volta noi scriviamo il disavanzo come purtroppo va iscritto con la nuova normativa e ci carichiamo di ammortizzarlo, regalando un futuro agli abruzzesi non di debiti ma di risanamento. E allo stesso tempo abbiamo garantito prevalentemente le spese sui trasporti e sul sociale e per la prima volta con l'Aggiunta, perché lo scorso anno fu apportato col Consiglio anche delle risorse su agricoltura e cultura. Noi abbiamo presentato una serie di emendamenti che sono quelli che vogliamo che la maggioranza prendano in esame e magari in alcuni casi anche accettare. Su questo c'è la nostra massima disponibilità. Comunque un po' di numeri li vogliamo vedere. Ad inizio seduta Di Pangrazio ha ribadito anche la censura adottata dall'ufficio di presidenza nei confronti del gruppo dei 5 Stelle. Camillo D'Alessandro del PD ha reso invece noto di aver ricevuto centinaia di offese sul suo profilo Facebook e anche tramite sms a seguito di un video postato dai grillini in cui il consigliere Dem cerca di non farsi riprendere da un grillino che lo firma con un telefonino. Oltre alla violenza delle offese per i quali chiaramente ci saranno giudici che decideranno se quelle sono offese punibili o meno, si è andato oltre perché si è voluto intaccare la sfera personale ma soprattutto intimidire l'attività di un eletto dal popolo con delle minacce che sono arrivate anche per messaggio, quindi private, di gente che mi vuole fare sapere che da oggi mi devo stare attento. Il consigliere M5S Riccardo Mercante che segue i lavori da spettatore lo invita a denunciare pure e rigetta al mittente le accuse. Se il consigliere ha ricevuto le minacce e esistono le vie legali può procedere per diffamazione con chi l'ha minacciato. La notizia è che noi ieri abbiamo messo in atto una protesta pacifica per dimostrare contro il bilancio assolutamente al buio, quindi privo di qualsiasi... non c'è stato mostrato e c'è stata un'aggressione indiretta all'interno del consiglio da parte del presidente verso la nostra collega. E sempre sul consiglio regionale nella legge di stabilità è prevista la rascita dell'organismo che si occuperà di finanziamenti europei. Un carrozzone è stato così definito per il centrodestra, un carrozzone inutile, uno strumento essenziale invece per il centrosinistra. Vediamo. Organismo strumentale per gli interventi europei, un oggetto ancora misterioso la cui istituzione è prevista dalla legge di stabilità. Un organismo che dovrà occuparsi di gestire una partita da 2,5 miliardi di euro relative ai finanziamenti europei, dal FASPOR, FERS, passando per il PSR, e anche delle centinaia di milioni di euro previsti per gli interventi del masterplan per il Sud. Un ennesimo baraccone di cui sono ignoti i costi e dimensioni, secondo l'opposizione di centrodestra, che serve più che altro al presidente D'Alfonso per accentrare nelle sue mani e trasferire a Pescara la delega importante dei fondi europei. Quello che mancava all'Abruzzo per spendere bene subito le risorse e non restituire nemmeno un centesimo a Bruxelles, ribatte la maggioranza. Qui si sta ritornando ai vecchi carrozzoni di una volta, un organismo di questo genere che è mascherato da buone intenzioni, in realtà ha due obiettivi. Il primo obiettivo è quello di accentrare in capo, ormai direi a una riforma, insomma al presidente, ai suoi uomini, tutte le funzioni in sostanza. E poi c'è anche un altro rischio molto forte che io ritengo, in questo scenario vedo una sorta di volontà di accentrare verso Abruzzo sviluppo e quindi togliere una funzione all'Aquila per attribuirla a Pescara. Organismo strumentale per gli interventi europei, voi difendete la scelta? Non è che la difendiamo, la sopportiamo in maniera decisa e forte, consci di un dato di fatto. Ormai i fondi derivanti dallo Stato centrale sono sempre di meno e saranno sempre di meno nei prossimi anni. Per cui l'unico modo è attrezzarsi adeguatamente per ricercare e captare quei fondi europei che purtroppo, finora, troppo spesso ci sono passati sopra la testa. Si annuncia un nuovo anno caldo in Regione Abruzzo. Per lo stato di agitazione, annunciato da parte dei sindacati della funzione pubblica, si contesta la riduzione di 500 euro del salario accessorio. Francesca Romanatesti. Noi oggi come CGL, CISL, UGL e UGL della funzione pubblica proclameremo lo stato di agitazione del personale perché nell'incontro del 18 ultimo scorso il Presidente della Regione si era impegnato con noi a trovare le strade per poter implementare il fondo del trattamento accessorio dei dipendenti regionali. Ma ciò non è avvenuto. Tanto è vero che ieri, nel confronto che c'è stato con la delegazione trattante di parte pubblica, non c'erano ancora le condizioni per poter firmare l'accordo. E anche su una possibilità di trovare una mediazione non si è trovata la quadra. Quindi riteniamo che senza questo impegno non possiamo accettare che ci sia un ulteriore taglio al salario accessorio che è già avvenuto l'anno scorso e quest'anno si concretizzerebbe ancora in circa 500 euro lordi. Il 2015 invece per l'economia abruzzese si chiude con un miglioramento rispetto all'anno precedente. Resta critica la situazione per le piccole e micro imprese, bene l'export e continua la riflessione degli occupati. Mancano ancora però le politiche dedicate alla ripresa dei consumi. Vediamo. Il 2015 è andato certamente meglio rispetto al 2014 che è chiuso in negativo col PIL al 2,7 mentre le previsioni per il 2015 sono un più 0,3%. Quasi nulla però ha invertito la tendenza. Tuttavia la situazione resta difficile perché il vero tema è l'occupazione che non cresce. Abbiamo un fenomeno in Abruzzo, si sta divaricando l'economia tra le grandi e medie aziende che riescono a reggere perché sono in grado di far fronte all'export che cresce del 3,8%, mentre tutte le piccole e piccolissime imprese, anche l'artigianato di cui il tessuto produttivo abruzzese è ampio, ha una vasta presenza, continua a arretrare, a perdere occupati perché è legato più alla domanda interna del nostro paese che fatica a riprendersi. La qualità dell'occupazione cambia perché il Geobact è servito a regolarizzare più che aumentare l'occupazione le posizioni precarie e quindi i dati che abbiamo dimostrano come anche qui da noi il Geobact è servito a stabilizzare di più e quindi a dare più certezza, più reddito ai lavoratori che sono una buona cosa ma non sufficiente a rilanciare l'economia. Quali sono le previsioni e soprattutto le richieste e le proposte per l'anno che viene? Il 2016 si presenta come un anno di possibile speranza di una ripresa più forte e duratura. La nostra regione cosa può fare? Deve continuare sulla strada delle riforme e portare in porto quelle che già avviate, quelle dei trasporti, dei consorti industriali sono riforme importanti e certo però che bisogna evitare di pensare solo al masterplan perché il masterplan copre solo alcuni settori, soprattutto quelli infrastrutturali, materiali e immateriali. Serve una politica per l'industria, per le piccole imprese, per il turismo e questo per l'agricoltura, per le aree interne e queste sono le risorse che rimangono a disposizione. Il via libera del CICAS Abruzzo al pagamento della cassa integrazione in deroga in favore dei lavoratori delle piccole aziende. Lo comunica l'assessore alle politiche del lavoro, Andrea Gerosolimo, che questa mattina ha presieduto a Pescara la seduta dell'organismo regionale che gestisce le crisi aziendali e di settore. Il via libera è arrivato per quelle domande presentate entro il 29 dicembre 2015 con istruttoria positiva. E ci spostiamo a Pescara, ci si avvia ad una schiarita sulla vicenda dei lavoratori interinali di Attiva, raggiunto un accordo fra lavoratori e amministrazione comunale per un percorso comune da seguire. La prossima riunione ci sarà l'8 gennaio. Paolo Renzetti. Sindaco Alessandrini, da pochi minuti è terminata la riunione tra i lavoratori interinali di Attiva e l'amministrazione comunale. Si è intrapreso un percorso condiviso da portare avanti. C'è insomma una schiarita su questa avvertenza? Abbiamo concluso il tavolo di lavoro con un comunicato congiunto che mostra che si vuole fare un percorso insieme. Il primo passaggio di questo percorso è una riunione che dovremo tenere a breve per verificare numeri e procedimenti in ordine alla possibilità ventilata dai lavoratori a proposito di procedere ad una conciliazione del contenzioso in atto verificandone la sostenibilità diciamo così giuridica. Poi c'è anche il tema naturalmente del futuro di Attiva. Il futuro a breve prevede la necessità comunque di coprire dei posti che non sono stati assegnati nel concorso perché l'esigenza di pulizia della città permane. Poi c'è il futuro di Attiva perché verso una pubblica amministrazione nuova, verso la Costituzione dell'Ager che è un'autorità gestoria dei rifiuti di ambito regionale, ecco che Attiva potrebbe avere un ruolo più ampio quindi si cerca di guardare anche al di là dello stretto orizzonte quotidiano. C'è anche una notizia che riguarda il lavoratore che aveva fatto ricorso in tribunale. Il ricorrente viene assunto, naturalmente poi ci sarà un prosieguo dell'azione, cioè ci sarà un grado ulteriore di giudizio e poi bisognerà vedere come va a finire l'appello. 200 giocattoli sequestrati, un quintale di alimenti sottratti alla vendita ed avviati alla immediata distruzione, sospensione dell'attività di un laboratorio di ristorante etnico specializzato nella preparazione del crudo sanzioni per un totale di 10.000 euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS su tutto il territorio regionale in occasione delle festività natalizie per garantire la sicurezza dei prodotti e la salute del consumatore. Nello specifico, nel corso di due ispezioni, magazzini dell'Aquila e del Frentano sono stati sequestrati circa 200 giocattoli perché privi delle informazioni minime di sicurezza. Giochi destinati ad essere venduti per l'epifania e se maneggiati dai bambini potenzialmente pericolosi. Per quanto riguarda la sicurezza alimentare, dopo il maxi sequestro operato qualche giorno fa di oltre 10 tonnellate di prodotti ittici non tracciati, il più ingente degli ultimi tempi in Abruzzo, i militari del NAS hanno controllato esercizi e ristoranti etnici. In particolare, nell'Alto Terramano è stato rinvenuto un quintale di cibo completamente privo delle informazioni sulla tracciabilità. Si tratta di vegetali freschi, conserve, prodotti ittici, surgelati e carne che sono stati sottratti alla vendita ed avviati all'immediata distruzione. I carabinieri del NAS hanno anche elevato sanzioni pari a 5.000 euro connesse alle scarse condizioni igieniche. Infine è stata sospesa l'attività di un laboratorio di un ristorante etnico specializzato nella preparazione del crudo della zona di Chieti. Il provvedimento si è reso necessario in quanto il pesce veniva preparato seguendo procedure inidonee. L'ispezione scattata dietro segnalazioni di alcuni clienti, anche in questo caso sono state contestate sanzioni pari a circa 5.000 euro. Ed ora parliamo di inquinamento. L'Aquila supera i valori di PM10, dall'Arta però giungono rassicurazioni. Ascoltiamo. L'Aquila come le grandi metropoli italiane per inquinamento e qualità dell'aria. È un poco invidiabile primato quello del capoluogo abruzzese certificato dai dati dell'Arta relativi alle rilevazioni effettuate il 22 dicembre scorso, secondo quanto rilevato dall'Agenzia regionale per la tutela dell'ambiente in quella giornata i limiti di PM10 sono stati leggermente inferiori al limite consentito per legge, ovvero 45 microgrammi per metro cubo, ma nei giorni precedenti, il 18 dicembre per la precisione, gli indicatori di PM10 avevano superato la soglia massima raggiungendo il valore di 55, 24 microgrammi per metro cubo per teramo e 28 per Chieti, quindi valori nella media, sempre nella giornata del 22 dicembre, così come a Pescara, dove le centraline hanno registrato valori oscillanti tra 28 e 32 e dove solo quella situata in via Sacco ha fatto registrare un picco di PM10 pari a 37. Nella città triatica, peraltro, l'amministrazione ha predisposto la circolazione intergalterne alla ripresa dell'attività scolastica il prossimo 7 gennaio. Un dato decisamente a sorpresa, quello a Quilano, con l'amministrazione che ancora non ha preso misure adeguate per rispondere agli alti livelli di inquinamento, che anche secondo attorevoli studi consultabili sulla rete, su siti specializzati, risentirebbe sensibilmente dei lavori di edilizia e presenza di inerti. Ed in una città in cui, come nel resto d'Italia, non si registrano perturbazioni da settimane, la presenza di cantieri legati alla ricostruzione potrebbe aver contribuito in maniera determinante all'impennata dei valori di PM10. Dall'Arta sono giunte comunque rassicurazioni e si parla di situazione nella norma, con valori di PM10, che nel capoluogo sono stati superati solo 8 volte in un anno, mentre a Pescara 35. Dati che comunque devono far mantenere alta la tensione su un problema acuito, dai riscaldamenti domestici e dall'inversione termica, che crea una cappa nell'atmosfera e non consente la dispersione degli agenti inquinanti. Sittin di protesta questa mattina a Pescara, davanti alla sede della Banca d'Italia, ad organizzarlo gli esponenti di Fratelli d'Italia, che oltre a chiedere il risarcimento dei correntisti truffati, chiede regole più ferre per chi vende prodotti a rischio ai risparmiatori. Sentiamo. Davanti alla sede di Banca d'Italia, per manifestare contro chi non ha tutelato su quei risparmiatori che oggi si trovano ad aver perso i risparmi di una vita? Sì, parliamo di lavoratori che hanno lavorato per una vita, che alla fine dei conti hanno visto perdere tutto ciò che era stato risparmiato anche per i propri figli, truffati dalle banche. Invece di venire tutelati dalle banche, sono stati letteralmente depredati. Siamo qui davanti alla Banca d'Italia, perché la Banca d'Italia non ha controllato le banche, l'operato delle banche e quello che è successo è sotto gli occhi di tutti. Ora, noi diciamo apertamente che quando i cittadini vanno in banca devono essere garantiti, almeno come ho scritto io nel nostro cartello, almeno sino a 100.000 euro. Ora, quando lei va in banca, le persone, gli impiegati, non lo dicono questo discorso qua e sono molto ambigui. Allora, noi diciamo, voi dovete fare sì il vostro lavoro, dovete vendere denaro, come sempre, però dovete garantire alla gente e dire la verità dei fatti e non prendere in giro la gente. Tutto qua. E quindi noi siamo qui oggi per protestare contro questo discorso. Parliamo di sanità, uno dei nodi nel complesso da affrontare, quello delle liste d'attesa. In provincia di Teramo i dati dicono che se la sinergia tra pubblico e privato funziona, è possibile ridurre consideravolmente l'attesa per le prestazioni diagnostiche. Andrea Costantini. Tempi lunghi, a volte lunghissimi, per l'erogazione di prestazioni sanitarie con la salute del cittadino che rischia di essere compromessa da liste di attesa improponibili. In Abruzzo però c'è un caso, quello della Asle di Teramo, che si è mostrato in controtendenza in concomitanza con la scelta provvisoria di alcuni mesi fa di far erogare le suddette prestazioni anche a strutture private. I risultati sono stati eccellenti. Nell'arco dei due mesi di prova in cui il servizio sanitario è stato, per così dire, ci si è appoggiati a delle strutture private esterne, addirittura queste liste di attesa sono per alcune prestazioni dimezzate. Per altre invece proprio si è giunti a zero. Ricordiamo che il limite massimo è di 60 giorni e quindi questo senz'altro potrebbe essere un'ottima opportunità per le Asle di prestare comunque il servizio, visto che comunque il servizio sanitario è pagato dagli utenti e nello stesso tempo è la stessa regione che quindi non vede, per così dire, scappare gli utenti in altre regioni. Risultati che l'azienda Terramana potrebbe confermare perseverando con questa mossa strategica che andrebbe incontro alla salute dei cittadini con prestazioni erogate in tempi brevi, conseguente forte contenimento della mobilità passiva ed anche un sostanzioso sollievo per il bilancio di quelle Asle che appunto scegliessero questa via. Se una prestazione costa 135 euro per esempio per un esame mammario, la regione eroga 135 euro alla Asle. Questo servizio se affidato a strutture private esterne costa addirittura di meno perché costa all'incirca 100 euro, il che significa che la regione comunque eroga alla Asle di appartenenza a 135 euro. Però costando 100 euro la prestazione, alla Asle rimangono i 35 euro. Ci sarà sicuramente un bilancio positivo, soldi che chiaramente potranno essere rimessi all'interno della stessa struttura per migliorare il servizio sanitario. Il bilancio 2015 positivo secondo il primo cittadino di Giulianova, Francesco Mastromauro. Il sindaco ha rimarcato come la sua amministrazione sia riuscita a diminuire di 300 mila euro la tassazione locale. Come si chiude il 2015 per l'amministrazione comunale di Giulianova? Il bilancio 2015 è un bilancio molto positivo. Molto positivo al di là delle polemiche strumentali che qualcuno vuole sempre avanzare senza analizzare in maniera oggettiva un anno solare che vede gli enti di prossimità in grande difficoltà. A Giulianova noi abbiamo un bilancio 2015 approvato rispettando il patto di stabilità per l'ennesima volta. Un bilancio che non ha introdotto nuove tasse locali, ma che anzi ha diminuito la tassazione locale. Più di 300 mila euro di diminuzione. In questo anno solare abbiamo pagato un debito che proveniva da 35 anni addietro di 4 milioni e 200 mila euro. A Giulianova quest'anno ha iniziato a lavorare il gestore unico dei rifiuti. C'è, come hanno potuto osservare i cittadini, sempre una migliore percezione della pulizia. Abbiamo superato il 70% di raccolta differenziata. Nonostante la crisi abbiamo fatto opere pubbliche che la città aspettava da tempo. Abbiamo inaugurato il tratto del lungomare su lungomare centrale con il Bike to Cost. È stata un'opera importante. Tante cose le abbiamo messe in itinere. Iniziato i lavori del campo di calcio Castrum, anche questo che attendeva da almeno 40 anni, con un impegno di oltre un milione di euro, porterò all'approvazione la realizzazione di un palazzetto dello sport interamente a carico dei privati. A Giulianova abbiamo iniziato e continuato una stagione della democrazia partecipata. Siamo nelle condizioni di poter auspicare per il 2016 interventi importanti. Perché con la vendita della Giulia Servizi, che è stata decisa dal legislatore nazionale, noi contiamo di reperire risorse ingenti, diversi milioni di euro, che andremo a investire sulla città per completarla, ad esempio con il centro del Lido che ha bisogno di un grande restyling. Cambiamo decisamente argomento. Dopo 16 anni di presidenza, Massimo Parenti, storico fondatore dell'Agbe di Pescara, l'associazione impegnata nel sostegno delle famiglie e dei piccoli pazienti affetti da leucemia, lascia l'incarico e passa il testimone al suo vice, Achille di Paolo Emilio. Dal 1 gennaio guiderà l'associazione, mentre Parenti ricoprerà il ruolo di presidente onorario dedicandosi al reperimento di fondi. Servizio. Un passaggio di consegne voluto, dovuto, che magari se fosse avvenuto 5-6 anni fa sarebbe stato ancora meglio, però per gli impegni dell'associazione occorre che una persona sappia che ci si deve dedicare. E quindi finalmente abbiamo trovato un genitore disponibile ad essere presenti in associazione sia la mattina che il pomeriggio, per cui noi andremo avanti con i nostri impegni. Io non è che esco dall'Agbe, rimango nell'ambito dell'Agbe preoccupandomi di quella che è la raccolta fondi, che siena ad oggi è quello che ci permette di andare avanti, di portare quel sorriso ai bambini ricoverati, con le famiglie ospitate in casa alloggio o con il trasporto casa-ospedale-casa e con tanti altri servizi che offriamo sempre gratuitamente ai nostri amici meno fortunati. Io in pratica sono stato in questi 16 anni sempre a fianco di Massimo. L'associazione l'abbiamo fondata insieme, che è chiaro che lui è stato il trascinatore, quello che ci ha dato la forza e lui che è stato sempre in prima linea, però è sempre stato supportato da me e dagli altri consiglieri. Quindi non cambierà niente, se non ci sarà un impegno da parte mia, un forte impegno perché noi abbiamo sempre creduto in quello che facciamo e continueremo a crederci. Sicuramente abbiamo altri progetti nel cassetto e cercheremo di portarli avanti. Sono abbastanza tranquillo perché so che quello che facciamo è che cosa andiamo incontro. So quello che mi aspetta, so che cosa faccio e poi strappare un sorriso ai bambini è la mia missione e quindi sicuramente la mia famiglia sarà felice di questo. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Con un briciolo di buona sorte, il Pescara avrebbe potuto centrare la promozione in Serie A, ma il 2015 resta un anno molto positivo per i biancoazzurri che ora guardano al mercato per migliorare ancora una squadra che ha chiuso il girone d'andata al quarto posto. Andrea Costantini. È stato un 2015 molto positivo per il Pescara, un anno nel quale è mancata solo la ciliegina sulla torta di una promozione sfumata per un soffio lo scorso giugno quando la Fortuna ha deciso di sorridere al Bologna e voltare le spalle ai biancoazzurri. Nonostante le partenze eccellenti nel corso dell'estate, il nuovo corso instaurato da Massimo Oddo ha continuato a mettere risultati più che lusinghieri, anche per via di una rosa allestita con un'età media bassa ma ricca di qualità e talento. Così il Pescara chiude l'anno solare avendo fatto più punti di tutti, 70, e più gol di tutti, 63, e al giro di Boa è la quarta forza del campionato con 37 punti ad attivo. Meglio hanno fatto solo Cagliari, Crotone e Novara. Alle spalle squadre all'inizio quotatissime come Bari, Cesena e la delusione Spezia. E la sensazione è quella che se Campagnaro avesse giocato di più e non fosse stato limitato dagli infortuni, il bottino poteva essere ancora più pingue. In fondo i numeri sono eloquenti, con l'argentino a guidare la difesa i biancoazzurri hanno sempre vinto e incassato un solo gol a Lanciano. Anche il presidente Sebastiani può gongolare per le esplosioni di Caprari e del capocannoniere Lapadula, giocatori che sul mercato valgono già tanto, sul campo viaggiano a suon di gol. A proposito di mercato, il primo nome in entrata in attesa dell'apertura ufficiale della finestra invernale, fissata per il 4 gennaio, è quello del centrocampista marocchino Ismail Ekmaidat che la Roma acquisterà dal Brescia per poi girarlo in prestito al Pescara. Giocatore di grande qualità e che potrà inserirsi nel gruppo anche grazie all'ex compagno di squadra Ben Ali che ritroverà in riva all'Adriatico. Il tecnico Oddo poi vorrebbe alla sua corte Antonio Piccolo. Sul giocatore della Virtus Lanciano c'è una concorrenza spietata di Novara e soprattutto Spezia che sul piatto mettono un ingaggio allettante per il giocatore. Il presidente Sebastiani proverà a far valere i buoni uffici con il DS Frentano Leone e a mettere sul piatto alcune contropartite tecniche come il difensore Pesoli e l'attaccante forte, ma non sarà facile. Interessano poi il fantasista Verde che potrebbe arrivare anche egli in prestito dalla Roma e l'esperto difensore Domizzi dall'Udinese. I vertici biancazzurri tengono poi d'occhio gli sviluppi della vicenda Mandragora, il Genoa proprietario del cartellino e la Juventus hanno già trovato l'intesa per il passaggio in bianconero del gioiello di Scampia, il quale comunque con grande probabilità resterà in prestito a Pescara fino a fine stagione. Tuttavia non si può escludere a priori che il giocatore indossi sin da subito la casacca bianconera. Oddo però conta di averlo ancora con sé, un giocatore che nel girone d'andata ha confermato anche in biancazzurro di essere un vero e proprio predestinato. Tra possibile nuove penalizzazioni e partenze eccellenti, la Virtus Lanciano chiude con tante preoccupazioni un difficile 2015. Nuove ansie per i tifosi frentani dopo la boccata d'ossigeno con Livorno, Piccolo, Marilungo, Pucino e Crecco hanno la valigia pronta, rischia di andare via anche il capitano Mammarella. Il servizio. Un paio di giorni per godersi la tonificante vittoria sul Livorno, poi sui tifosi della Virtus Lanciano sono ripiombate le preoccupazioni che alleggiavano prima dell'ultimo match dell'anno. Interrogative ancora più inquietanti alla luce dei rumors piuttosto insistenti che parlano dell'arrivo di una nuova penalizzazione per problemi amministrativo contabili dopo il meno uno subito nelle scorse settimane dal Tribunale federale per la mancata attestazione del pagamento dell'IVA per l'anno 2012. I tre punti con Livorno hanno riaperto uno spiraglio salvezza, ma la squadra va adeguatamente rinforzata. Invece la proprietà nelle ultime ore per bocca del vicepresidente Guglielmo Maio ha fatto sapere che il mercato sarà fatto in base al bilancio tenendo d'occhio i conti e nessun giocatore è considerato incedibile. Tutto questo va a corroborare quelle voci che già si erano fatte insistenti nei giorni scorsi. La Virtus perderà il suo giocatore di maggiore rendimento, l'uomo su cui D'Aversa si è appoggiato per non compromettere le speranze salvezza già nel girone in andata Antonio Piccolo decisivo con i suoi otto gol. L'attaccante è in scadenza di contratto e piuttosto che perderlo senza poter batter ciglio la società potrebbe farlo partire subito monetizzando. Sa di beffa la situazione di Guido Marilungo, il centravanti di proprietà dell'Atalanta dopo un lento e difficile recupero dal grave infortunio finalmente si era sbloccato domenica scorsa con la doppietta al Livorno. Sul più bello però Marilungo andrà via e col placet dell'Atalanta finirà al Perugia dove ritroverà Bisoli che lo ha allenato a Cesena. Anche il DS perugino Goretti è uscito allo scoperto sulla trattativa. Un colpo al cuore per gli sportivi frentani è sapere che anche il capitano con la C maiuscola Carlo Mamarella potrebbe fare le valigie nel corso della sua ottava stagione in Frentania. Al difensore dal sinistro Fatato è fortemente interessato Lascoli e i contatti sono ben avviati. Anche l'Avellino guarda Lanciano per rinforzarsi, situazione avanzata per il difensore Raffaele Puccino che andrebbe via dopo metà stagione. Destinazione Irpina anche per Luca Crecco che al contrario di Puccino ha giocato molto poco. I due peraltro non sono di proprietà della Virtus ma di Chievo e Lazio rispettivamente. Voci di mercato anche intorno a Fabrizio Paghera che come piccolo era in procento di andare via già in estate. Il centrocampista di proprietà sarebbe un'altra opportunità di fare cassa per il soddorizio Frentano ma costituirebbe una perdita molto grave sotto il profilo tecnico. Ed è tutto per questa seconda edizione della TG6. L'appuntamento torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.